Sì, è vero questa volta di non vedermeli arrivare entro troppo poco tempo, non sarebbe un buon segno. Le varie scariche di sassi e il freddo ci hanno proprio messo in una condizione all'interno. Ci abbiamo messo l'anima, abbiamo provato praticamente tutto, ma la parete ci ha rispinto ancora. In un posto del genere, cioè su Bagheerati 3 ci sono sette vie, su Bagheerati 4 neanche una. Bagheerati 4, 3. Ragni di Lecco, 0. Questo è il punteggio parziale, per fortuna è un punteggio però parziale. Abbiamo cambiato un po' tutti gli amuleti che avevamo. Ci proveremo.